Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video Era da un sacco di tempo che non vi facevo un video collaborazione Quindi appunto sono stata contattata da varie aziende Il primo pacco che mi è arrivato è da New Dress Che in passato ci avevo già collaborato, non so se vi ricordate Con questo sito devo dire che mi ci trovo normalmente Nel senso né bene né male E ovviamente i prodotti sono cinesi quindi la qualità non è ottima Poi i miei pareri, cioè i miei giudizi sono assolutamente miei Cioè personali, nessuno mi ha detto di dire niente E ovviamente i link dei prodotti vi lascio giù nell'info box Quindi direi di cominciare dal primo prodotto Che sarebbe questo cappello bianco Non ha nulla di particolare Però visto che appunto io non ho cappelli bianchi Non ho solamente due neri e uno verde Quindi l'ho voluto prendere Le citture sono ben fatte e robe del genere Insomma è molto elastico E nulla, questo è approvato Sicuramente lo userò Il secondo prodotto è una cosa che volevo da un sacco di tempo Però non li trovavo da nessuna parte E io ho detto no vabbè c'è questo Lo devo assolutamente prendere Questo è veramente mio Però ce n'erano un sacco di tipi E io li sono entrata in panico Praticamente li volevo tutti E però poi mi sono fatta consigliare da un mio amico Qual era quella migliore E alla fine ho scelto questa qui Appunto è un cuscino È davvero enorme Praticamente più grande della mia faccia E ha su queste emoji che ride Visto che io praticamente passo Penso il 99% delle mie giornate a ridere Quindi veramente è un cuscino Proprio fatto apposta per me Il materiale è molto bello Nulla da dire Il prossimo prodotto che vi faccio vedere Sono un paio di scarpe Allora parto dal fatto che ovviamente sono cinesi Quindi non so quanto le potrò usare Sono così neri All'interno hanno tutta la pelliccetta Sono similag ovviamente finti Sono il modello quello basso Perché a me non piacciono né quelli medi né quelli grandi E appunto volevo provarli così bassi E diciamo al piede fanno molto l'effetto di uno stivaletto E io ho preso un 37% Mi sta giusto Forse anche un pelino piccolo Ma comunque fa niente Le userò ugualmente Passiamo al penultimo Barra penultimi oggetti Perché sono Cioè è un set di tre collane C'è questa collana Che è di quelle elastiche Nera E poi ha un ciondolo Dello Ying Yang Non so se lo potete vedere Poi c'è questa collana Che ha questo ciondolo E l'ultima invece ha quest'altro ciondolo Nulla Non c'è niente da dire su queste tre collane Sono fatte bene Semplicissime E le potete abbinare singolarmente Ma anche comunque tutte e tre insieme Ci stanno bene devo dire Siamo arrivati alla fine Ovvero l'ultimo prodotto Che è una borsa È fatta così Il materiale è diciamo Similpitonato Ovviamente finto È nera Qui ha la zip E devo dire che è abbastanza capiente Ve la faccio rivedere E all'interno c'è una tasca E un'altra tasca però Con la zip Nulla Questi erano i prodotti Come vi ripeto Vi lascio tutti i link In descrizione Vi avviso che Comunque Prossimamente Non so quando Perché appunto Non so quando Mi arriveranno le altre collaborazioni Comunque appunto Vedrete altri video Collaborazioni Nulla Spero che questo video Vi sia piaciuto Io vi mando un bacione E noi ci vediamo al prossimo video Ciao